a tutte le ragazze fa niente non ho benne che ho impostato la roba beh, ma fa niente, tanto fa niente, noi proprio tutto allora, questo qui è il video haul Avon in collaborazione con la bellissima Avon Perry di cui vi metterò il link nell'info box sul canale andate a vederla perché è bravissima e simpaticissima bacioni tesoro e... cominciamo qua da qualche parte si, cominciamo da qualche parte vuoi cominciare dal tuo correttore? l'unica cosa che non si vede quello medium come lo solito cioè quello della color trend molto... abbiamo mandato prendere la mousse è ammaccata si, appunto che ce dobbiamo fare della foodwalker è uscita in questa campagna la mousse rivitalizzante per i piedi si scuote e si spreme be 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 perché trovo l'italiano si spreme e si mette sui piedi immagino allora offre all'istante freschezza e sollievo tenisce e rinvigorisce gambe e piedi a fatti ah, quindi anche le gambe? certo, dai Non agitare, opporizzare sulla mano o sui piedi, massaggiare con un completo assorbimento, non applicare sulla pelle umida, attenzione, ripeto sotto pressione eccetera eccetera. Quello non ci interessa. Quindi non si agita. Poi c'è anche la crema se vuoi prenderla su per domenica. Sì, ma vedi che è un gel che è meglio per vestire il fresco? No, sono io che l'ho messo in frigo per accentuare l'azione. Ma si dai, me lo porto dietro. Abbiamo approfittato anche noi dell'offerta sui bubble butt. Uno, quello da 1 litro 5,95 e quello da mezzo litro a 1,95. È chiuso anche quello tesoro. C'è finita della roba che proprio non c'entra. Cavolo. Ma ora si, me lo porto. Tutte lo prendono, noi in questo qua non lo abbiamo. E poi di nuovo. Ecco perché allora non me lo ricordano. No, no, non l'abbiamo mai avuto noi. E' buono come proprio. L'amore vaniglia che è in fondo al mobiletto. Tu hai detto, non ce l'abbiamo più l'amore vaniglia. No, invece ce l'ha. Quindi io dico, mi faccio, guarda che c'è in fondo. Tè e gelsomino. Quest'anno va il tè e la scopola. E taran! Lo shampoo che l'abbiamo preso anche noi. Finita per ferite e verbe. Esatto. Piaceremo che lo devo lavare. E poi c'era l'offerta sui kit dell'Avon Naturals. Tre prodotti, 7,95€. Noi abbiamo preso Poemia e Frutto della Passione. In questo momento è Poemia, Frutto della Passione e Limone Gerbera Rosa. Anche poi sarà anche quello il tè verde perché è buonissimo. A me piace un gel perché fanno tante bolle. Non tanto schiuma, ma fanno le bolle. Esatto. Questo è un gel doccia, l'altro un pane. Esatto. Bello. Il mio tesoro. Sì, mamma, mamma. Mi do andare a sistemare l'unghia. Niente ragazzi, questi qua sono i prodotti che abbiamo preso per noi. Se anche voi li avete provati oppure ne avete da consigliarci, lasciate giù nei commenti. E come ho detto prima, nell'info box vi lascio il link al canale di Perry. Allora, siccome domani... Oggi è il 26, giusto? Noi l'abbiamo girato venerdì 26. Sì, noi è girato venerdì 26. Domani è sabato, non penso di riuscire a metterlo domani. Facciamo gli auguri di buon compleanno a Von Perry. Che domani, certo domani è il suo compleanno. Quindi spero di riuscire a metterlo per domani. Per domani, esatto. Magari domani mattina appena sveglia lo metto su così... Sì, intanto tu ti svegli presto. Facciamo. Si può occupare tanto per domenica che si deve svegliare alle 5, ma lei di scura alle 5 sarà più sveglia di me. Quindi, Pierina, perché Pierina è il suo vero nome, ti faccio un sacco di auguri di buon compleanno. Un bacione, tesoro. Ciao e spero che tu riesca a passare una giornata bellissima il giorno del tuo compleanno. Quindi, ciao ciao tesoro, tanti auguri di buon compleanno e ciao a tutte le iscritte al canale. Un bacione, ciao.